I profughi preoccupa sempre di più l'Europa, impegnata a gestire il complicato meccanismo dell'accoglienza, lunghe code silenziose alle frontiere che si allungano di ora in ora. Polonia, Ungheria, Moldavia, ma in tanti si stanno dirigendo anche verso Francia, Germania e Italia, che attende l'arrivo di 800.000 persone, mille al giorno. Solo alla frontiera del Friuli Venezia Giulia sono già più di 4.000 i profughi ucraini entrati nel nostro paese, una delle mete principali dove vive la più grande comunità ucraina d'Europa, con 236.000 residenti. Il Viminale ha già previsto 13.000 posti, 5.000 dei centri di accoglienza straordinaria e 8.000 nella rete SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, numeri che già oggi si dimostrano insufficienti di fronte all'ondata di persone in fuga che non si sa quanto durerà né quanto aumenterà. I prefetti, dopo la circolare ricevuta dal Ministero dell'Interno, stanno compiendo una ricognizione di altre strutture disponibili, dagli ex hotel Covid, dagli ostelli per la gioventù, oltre alle migliaia di alloggi messi a disposizione dai privati. Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, le regioni con le comunità ucraine più numerose che si stanno preparando ad accogliere le famiglie in fuga. L'attenzione è massima anche sull'aspetto sanitario per la possibile ricrudescenza del Covid in Europa, favorita dal movimento dei profughi, come spiegato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Ministero della Salute ha fornito le prime indicazioni. Chi arriva in Italia dovrà osservare 5 giorni di quarantena, provvedendo subito a tamponi e vaccini, mentre è inderogabile sburocratizzare l'accoglienza, dice il governatore del Veneto Zaia, che con il capo della protezione civile Curcio avvierà piani regionali per coordinare al meglio l'accoglienza. I profughi, in arrivo dalle zone di guerra, avranno lo status automatico di rifugiato per un anno, come prevede la direttiva di accoglienza temporanea che verrà approvata oggi a Bruxelles. Non dovranno dunque presentare alcuna richiesta di asilo, da passare al vaglio delle commissioni territoriali. riceveranno il documento e potranno circolare liberamente in Europa.